Sapete, creare video per YouTube non è così facile come sembra e non parlo dell'aspetto politically correct che devi avere su questa pettaforma per non offendere nessuno e per non farti bannare appunto da questa. Parlo delle idee e le idee sono il concetto chiave di questo breve video che andrò a farvi oggi. Per creare contenuti su YouTube devi avere sempre una riserva di idee. Le idee infatti poi vengono tramutate in un video che tu carichi su questa pettaforma. Il video poi può piacere o meno in base ai vostri gusti può risultare interessante. Questa idea poi non può più essere presa indietro perché appunto si trova su YouTube sotto forma di contenuto. Ed è per questo che oggi sono qui per chiedere a voi le vostre idee. Sono qui per indurre un piccolo sondaggio aperto senza opzioni e vi chiedo appunto nei commenti di scrivermi qualche idea per i video. Non tanto perché io le abbia esaurite ma perché sono corretto di sapere le vostre idee per quanto riguarda i contenuti che vorreste su YouTube. Ovviamente le idee che mi piacciono di più potrei trasportarle sotto forma di video. Diciamo quindi che è una specie di sondaggio aperto dove voi mi dite le vostre idee e io magari le prenderò in considerazione per dei futuri video. Seconda cosa per questo video news è l'annuncio di un nuovo fuck time. Settimana scorsa ho pubblicato un fuck dove rispondevo alle vostre domande e adesso sono qui per indurre un quarto mi pare fuck time dove risponderò alle vostre fantastiche domande. Scrivetemelo nei commenti in modo tale che poi me le possa segnare per andarvi a rispondere in un futuro video. Fatemi qualsiasi tipo di domanda dalla più seria la più stupida e io andrò a rispondere a tutte queste domande nel limite del possibile ovviamente come ho sempre detto. Detto questo mettete mi piace iscrivetevi al canale condividete il video con i vostri amici mi raccomando i social passate numerosi perché pubblico aggiornamenti per quanto riguarda il canale qualche sprazzo di vita privata mi raccomando ragazzi. Ultima ma un'ultima cosa attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con le ultimissime novità del canale Maltality. E noi ci rivediamo domenica anche se non credo ad un prossimo video. Bella ragazzi!